Vi serviranno dei fogli bianchi, gli stuzzicadenti e i pastelli a cero. Ora, prendete un foglio bianco e con tutti i pastelli a cera colorati che volete lo iniziate a decorare come volete. Potete disegnare un sole, oppure disegnate dei fiori, coloratelo il più possibile. Vi faccio vedere il mio. Ho fatto un arcobaleno sotto e sopra dei quadrati. Mi raccomando, usate colori chiari. Perché dopo cosa dobbiamo fare? Prendere il pastello a cera nero e colorarlo tutto sopra. Quindi io partirò dall'angolo in alto e colorerò bene. Mi raccomando, non si devono vedere i colori sotto. Con il pastello a cero nero tutto 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 il foglio. Bene, ora che avete colorato tutto il vostro foglio per delino di nero. E non solo il vostro foglio, ma anche le vostre dita diventeranno così. È il momento di prendere lo stuzzicadente. Potete disegnare qualsiasi cosa. Potete usare lo stuzzicadente piccolo, oppure quello grande, quelli degli spiedini. In base, se volete fare qualcosa di fine, oppure delle linee un po' più spesse. Quindi partite. Io per esempio disegnerò un fiore. Le linee sono troppo fini, quindi uso il dietro. Sbizzarrite. Più colori userete sotto, più il sopra diventerà tutto bello colorato. Una volta terminato, il risultato potrebbe essere questo. Vedete, io l'ho dedicato alla mamma e ci ho fatto pure un cuore. Voi potete fare qualsiasi disegno vogliate e dedicarlo a chi volete. Mi raccomando, prima di andare dai nonni, lavatevi bene bene le manine. E state lontani che i nonni vi vogliono tanto bene lo stesso. Perciò, ricordate che in questo momento, Oratorio Meet, ai mali estremi, oratorio e rimedi.